Il mondo del poker ormai guarda con ammirazione e diciamolo umana invidia il numero di iscritti a Lipo. Sa che ogni tappa il record può essere battuto e così è stato anche in questa nona edizione, 1103 giocatori si sono seduti ai tavoli. Però bisognerebbe cominciare a raccontare non solo il numero dei partecipanti al main event, quanto la totalità che si raggiunge sommando i protagonisti dei side. In effetti il programma, stilato da Andrea Bett, è ricchissimo. Il sabato sera, alle 20, sono 350 all'incirca quelli che versano 250 franchi svizzeri per disporre di 25.000 chip e nell'arco di due giorni provare il fatidico colpo gobbo. La struttura è più che interessante, dei 1 con bui a 25 minuti, dei 2 a 35. Domenica alle 15 ne bastano 150 di franchi per trovarsi di fronte a 20.000 chip. I bui sono a 20 minuti e gli avversari, tantissimi, spendendo una sciocchezza si può vincere una cifra interessante. Alle 16.30 è il turno delle donne, ladies event da 150 franchi svizzeri con 20.000 chip e bui a 20 minuti. Già nella passata edizione la presenza del gentil sesso al tavolo era stata gradita e corposa, quindi si fa il bis. Alle 18 bisogna investire un po' di più per giocare, 300 franchi, ma il side è estremamente tecnico. I bui sono a 20 minuti, ma le chip in dotazione sono ben 30.000. La domenica sportiva, tra virgolette, si chiude alle 21 con appena 120 franchi svizzeri, 15.000 chip, bui a 15 minuti. Turbo, certo, ma il lunedì si va a lavorare.